In tanti hanno collaborato alla riuscita di questa decima edizione che è venuta molto bene. Vogliamo ricordarne qualcuno fra chi ha sostenuto il MAF e chi ci ha suonato, anche artisti molto importanti? In particolare volevo ringraziare l'amministrazione comunale Fiorano Modinese, dove oltre a sostenere la manifestazione economicamente, ci dà la possibilità logistica di sfruttare tutti gli ambienti del Castello di Spezzano.